Grazie a tutti. Do la parola, è una parola grossa perché non ho tanta voce, quindi do una parolina piccola. Il buono è che non ho tanta voce, che magari riuscirò ad essere più sintetico e quindi, come vorrei, lasciare un po' di spazio all'interazione con voi. Quindi, come ha già detto, parlerò di innovazione sociale. Stamattina ero qui e ho seguito con molto interesse le presentazioni che sono state fatte e anche un po' l'interazione col pubblico. Ho visto che la parola innovazione non gode di buonissima fama, tra le persone di cui ho sentito parlare. Io penso che ci sono delle parole che, quando hanno successo, possono anche essere abusate, ma il fatto che siano abusate non vuol dire che non abbiano un significato. Quindi, per esempio, sono stato un grande sostenitore e sono della parola sostenibilità, anche se è stata abusata, però significa una cosa precisa. E anche questo concetto di innovazione sociale ha un suo perché e quindi il suo perché vale la pena di cercare di valorizzarlo e di vedere quali possono essere le implicazioni. D'altro lato, se è vero che viviamo in un mondo che sta cambiando così velocemente, è difficile dire, anche se non ci piace, che non dobbiamo fare innovazione, perché per forza la dobbiamo fare se ci piace o anche se non ci piace. Se poi mettiamo in conto la transizione ambientale, e questo è stato non tanto presente, questo tema, questa mattina, però io, neanch'io ne parlerò molto, però sullo sfondo di qualsiasi cosa diciamo, dobbiamo sapere che ci sono delle problematiche ambientali che può darsi che non ci facciano più giocare nessuno dei giochi che stiamo giocando adesso. Allora, non voglio fare il catastrofico, ma però un pochino bisogna saperlo questa cosa. Il nostro panorama futuro non è un panorama tranquillo in cui succederanno dei cambiamenti, qualche banca fallirà, ma insomma quello è il mondo. Il mondo può essere anche attraversato come è già in una fase catastrofica, secondo me. Cioè cosa vogliamo di più di catastrofico di queste forme di guerra, di queste grandi migrazioni, dei cambiamenti climatici che mettono le persone nella necessità di andarsene in giro per il mondo? Cosa vogliamo di più per dire che siamo già in una fase catastrofica, in qualche modo generata dall'ambiente? Per cui se guardiamo il futuro e a questa base di ecosistema che dobbiamo pensare, anche se ovviamente poi bisogna articolarlo e veniamo alle nostre storie. Ho scritto un'altra storia perché in realtà io quando sono venuto ero un po' imbarazzato perché ho detto ma probabilmente le cose che dico io le sanno tutti, però forse le sapete tutti, però io non le ho sentite, cioè ho un pochino avuto l'impressione che io ho visto un altro film in questi anni e il mio film è da un lato molto più preoccupato, ho parlato adesso della questione ambientale, che trovo una questione tragica che non può non entrare nelle nostre vite e dall'altra anche una questione politica per quello che sta succedendo in Italia, in Europa e nel mondo. Al tempo stesso il mio film vede che succedono anche delle cose, per cui io non posso mai in questi tempi, ormai da sempre, praticamente raccontare una storia sola, perché c'è una storia che è rappresentata dall'individualizzazione progressiva, da un mondo fatto di solitudini connesse, come si dice, e questo sicuramente è il mainstream. Ma io vedo anche altre cose, io non solo io, alcuni di noi forse viviamo in una nostra bolla, nella nostra bolla si vedono anche altre cose. E le altre cose che vediamo è che, prendiamo 15 anni, c'è una ragione per 10-15 anni, io parlo dell'innovazione sociale che è esistita sempre, quindi, però negli ultimi 15 anni, per una serie di ragioni che adesso non sto a cercare di evocare, possiamo dire che c'è stato, come dire, un boom. E in questo boom ci sono tante persone che in qualche parte della loro vita hanno cominciato a fare cose che non sono quelle che il profilo delle persone isolate e connesse in qualche modo ci fa pensare. Ovviamente, diciamo, queste persone non è che abbiano cambiato la loro vita a 360 gradi su tutto, non è una scelta ideologica a priori che li porta a fare, come dice, divento hippie e quindi tutta la mia vita viene impacchettata in un'altra maniera. Sono persone, come penso molti di voi e me, che nella loro vita, con tutte le contraddizioni, però hanno alcuni aspetti di quello che fanno che hanno permesso di organizzarsi, di affrontare dei temi, dei problemi, delle opportunità, mettendo insieme le cose in maniera diversa. E questa maniera diversa, a mio parere, è radicalmente diversa, cioè non è un po' diversa, è un intero universo di idee sul tempo, lo spazio, il lavoro, la qualità, la bellezza, metteteci quello che vedete voi, che li porta a dire, beh, le cose potrebbero essere fatte anche e le fanno in maniera diversa. In questi anni, io faccio progettista, come è stato detto, quindi tendo a vedere le cose come idee di servizio e in questi anni sono emerse centinaia di idee di servizio. Poi qualcuno può dire, alcune hanno funzionato, altre no, ce ne sono già tante, bisognerebbe molto importante, lo dirò anch'io, vedere e mettere la creatività, l'innovatività, anche in come le cose vanno avanti. Però le idee di servizio che sono emerse, di cui leggete lì, non lo sto a leggere, penso che oggi tutti quanti sanno che cosa sono le cose che sono scritte lì, in modo random. Bene, queste idee di servizio sono dei prototipi funzionanti, cioè non è l'utopia del signore che si alzi e dire, ma sai che mi piacerebbe che le cose fossero così. Sono persone che si sono organizzate per farle succedere. Poi alcune sono rimaste piccole, altre, come vedremo, sono evolute, e ne parleremo, però certamente non sono soltanto delle idee. Può essere un po' utopico quello che io racconto quando dico guardiamole tutte insieme, viene fuori uno scenario di una diversa civilizzazione, però questa mia idea che è uno scenario di diversa civilizzazione potete anche non comprarla. Il fatto che però queste cose ci sono, ci sono, e qualcuno le ha fatte. Quindi che cosa avrà avuto nella testa, quello che ha cominciato a farle, bisognerà capirlo, però qualcuno le ha fatte. Il risultato è che abbiamo delle reti collaborative. Allora, qui siamo le cooperative, quindi dovrei piovere sul bagnato. Il concetto di collaborazione è, se se ne deve dire uno, che è in stridente, radicale contrasto con la monologica neoliberale, è la collaborazione. Quindi il fatto che tutti questi esempi che sono lì sullo sfondo implicano che le persone in qualche modo contrattano la loro individualità personale, perché sono tutte persone che sono diventate individui, per mettersi d'accordo con gli altri e fare qualche cosa insieme, ha in sé un elemento eversivo nei confronti di tutte quelle idee che vedono la società fatta da individui che sono da soli in competizione individuale con gli altri. Io penso che questo sia importante, cioè non c'è solo la cooperazione, se qualcuno o qualcos'altro vedremo e se avremo tempo sarebbero potreste parlare di più, però credo che questa idea di collaborazione e la comprensione profonda di che cosa significa, e poi appunto qui non ci dovrebbe essere bisogno di dirlo, è molto importante. E se noi passiamo tutti gli ambiti della vita quotidiana, abbiamo l'abitare collaborativo di cui avete parlato voi, il movimento dei maker che in qualche maniera, anche con delle ingenuità, però ha rimesso in discussione come si possono produrre le cose, la questione della cura e l'individuazione di sistemi di cura relazionali, basati sulla cooperazione e sulla collaborazione, quindi che introducono degli elementi che non sono soltanto servito servitore, ma sono diverse forme di relazione e diverse forme di economia, tutto il tema della coltivazione al cibo, che forse è quello che si è sviluppato di più in maniera più visibile, in cui questa innovazione sociale veramente a livello planetario è minoritaria, però pone non più come piccole isole, ma come forte rivendicazione il fatto che non c'è solo un modo per immaginarsi il futuro agricolo alimentare, ma ce n'è anche un altro. L'accoglienza, che magari non avrà avuto purtroppo grande successo dal punto di vista generale, però vede e ha visto tutta una serie di iniziative straordinarie, la più nota è Riace, però non è che ci sia solo Riace, ce ne sono numerose altre di situazioni che mostrano come si può inventarsi i modi di integrare in modo positivo i residenti stabili con quelli che sono transitori. Quindi queste reti collaborative esistono e ci mostrano che si possono ottenere dei risultati, perché lo sapete, qui siamo le cooperative, si coopera per ottenere dei risultati che da soli non si otterrebbero, però, e lo sapete anche voi, almeno ho sentito stamattina che sembra che si stia perdendo, ma all'origine la ragione di cooperare non è solo di ottenere il risultato pratico, ma è quello della qualità delle relazioni che si stabiliscono. E per come la vedo io, anche nei casi di cui parlo, il bilanciamento tra le motivazioni pratiche, ottenere qualche cosa e le ragioni, diciamo, l'intenzionalità di mettersi in contatto con gli altri e di ricreare del tessuto sociale, bene, questo è il mondo che in qualche modo sto cercando di descrivere. Questo ha portato anche a una ridefinizione del senso civico, secondo me, cioè il tradizionale senso civico era basato fondamentalmente sul senso del dovere puro, che è anche rispettabilissimo, peraltro, qui nasce un senso civico di persone che si organizzano per fare qualche cosa che è una win-win-win, una soluzione che va bene per te personalmente, va bene per il tuo gruppo, la tua comunità con cui stai lavorando e va bene anche per la società nel suo complesso. Se si dovesse fare quello che qualcuno ha anche evocato stamattina, la relazione tra queste nuove realtà sociali che stanno emergendo e la politica, probabilmente, per me almeno, la base sarebbe andare a capire bene perché ci sono persone nel 2018 che pigliano questa posizione dal punto di vista del che cosa significa mettersi in rapporto con la società con questa formalità, con questa maniera non ideologica, diciamo, che non toglie che ci siano anche dei principi di valore assoluto, però nella pratica che noi vediamo è un misto di diverse motivazioni, con diverse relazioni con me, con il gruppo, con la società nel suo complesso. Allora, di questi discorsi, alcuni, tra cui il sottoscritto, li stiamo facendo da tempo e il vantaggio di farlo ora è non solo che, presumo, avete capito di cosa parlo perché quella lista di nomi sono ormai noti a tutti, mentre magari dieci anni fa dovevo spendere tutto il tempo a spiegare a ciascuno di loro o almeno alcuni di loro cosa fossero, ma anche che adesso possiamo vedere non soltanto la fotografia, l'istantanea di queste diverse, chiamiamole start-up sociali, se vogliamo, visto che è un termico andato di moda, e però possiamo vedere il film, che cosa succede dopo, e il film di cosa succede dopo, secondo me, ci dice dove l'innovazione sociale oggi dovrebbe in qualche modo concentrarsi, nel senso che abbiamo imparato relativamente bene che cosa vuol dire far succedere cose, ma c'è innovazione sociale anche nel vedere cosa succede dopo e vedere come si fa a fare sì che queste cose vadano, e qui ognuno darà i suoi giudizi di valore in base ai suoi principi in una direzione che chi sta parlando, chi parla in un certo momento, può riputare più interessante. Quindi c'è qualche cosa che l'innovazione sociale oggi ci può insegnare e che dieci anni fa, quando abbiamo cominciato, ovviamente no, perché avevamo soltanto questo bollire di cose, iniziative, che erano anche molto interessanti, ma tutte nuove. Allora, la prima è che ci sono delle traiettorie, ne ha anche già accennato la Macaffè, ovviamente ci sono delle traiettorie. Allora, prendiamo brevissimamente due esempi che sono i più noti, ma si potrebbe fare praticamente per tutte le aree in cui, se noi prendiamo la questione della bicicletta, in un paese che aveva perso l'uso della bicicletta, non so qui, però insomma, in molte parti la bicicletta era relegata al passato e quindi non faceva più parte della normalità. Per far partire qualche cosa ci volevano dei gruppi molto coesi, molto impegnati, praticamente quasi come dei gruppi di attivismo sociopolitico. Difatti, qualcuno si chiamava i guerriglia gardening, insomma, avevano anche nomi e simboli, guardate lì c'è il pugno, insomma, simboli molto impegnati politicamente. Quindi ci voleva qualcuno che spingesse per far sì che l'idea cominciasse a entrare in circolazione. Quando questo qualcuno è diventato abbastanza, si è cominciato a dire, beh, dobbiamo fare pressione sulla città, ci sono stati i fenomeni dei critical mass, quindi gruppi, insomma, se non sapete cos'è non lo so spiegare, ma forse tutti sapete cos'è un critical mass, che è un'invenzione sociale anche quella, cioè un modo di fare un'amministrazione senza fare un'amministrazione, semplicemente se 200 persone in bicicletta, vanno tutte in bicicletta sulla strada, fanno quello che peraltro le macchine fanno tutti i giorni. Però siccome le macchine, tutte impacchettate e ferme, sono tutti abituati a vederlo, se invece questo le fanno i ciclisti, ha scandalo e, insomma, la cosa fa notizia. Vabbè, comunque, dai piccoli gruppi ha un pochino più di mass di movimento, fin tanto che in moltissimi posti la bicicletta è diventata un fatto normale e quando è diventata un fatto normale sono emerse delle nuove regole che fanno sì che le città capiscono queste cose e cominciano a mettersi in moto, dalle cui sono cominciate a nascere delle nuove tecnologie che cercavano anche di integrare questa novità, di far succedere qualche cosa anche sul piano tecnologico, quindi delle innovazioni tecnologiche guidate dall'innovazione sociale fino ad arrivare ai bike sharing che sono dei complessi sistemi di prodotto e servizio specificatamente progettati per questa cosa qua. Penso che il concetto, l'avete capito, potrebbe essere fatto lo stesso per il car sharing, gruppi, vedete, perfino dalla grafica così, gruppi di amici, questa grafica un pochino naif da persone che hanno voglia di stare insieme, e poi quando questa cosa è cresciuta sono venute delle regole anche su questo, poi dalle regole sono venute delle imprese e dalle imprese sono venute delle tecnologie e poi vediamo che cosa è successo effettivamente. Per cui questa storia dice semplicemente una cosa che forse tutti sanno, cioè che l'innovazione, quella tecnologica è stata studiata per un secolo, quella sociale è stata studiata più recentemente, comunque va su una curva. Quindi quando parliamo di innovazione sociale cominciamo a dire dopo un po' di tempo non tutto ciò che è innovazione sociale si trova nella stessa posizione in quella curva là. E quindi noi abbiamo oggi, se facciamo la fotografia di tutto quello che si può chiamare innovazione sociale, abbiamo alcuni che sono nella fase iniziale, che chiamiamo comunità creative, abbiamo alcuni che sono diventati delle organizzazioni visibili e in qualche modo alternative al mainstream, e poi abbiamo in qualche caso alcune cose che sono diventate nuovi modi di fare, nuovi modi di fare in un certo tipo di ambiente. Allora, se questo è vero, e la curva ha il tempo da una parte e la diffusione dall'altra, ed è vero che alcune idee muoiono, questo è normale, cioè anche quelle di più normale business possono morire, però insomma, quelle che hanno successo, qualcuno lo diceva oggi, bisogna discutere il successo, perché non c'è, anche se la mentalità neoliberista fa dire c'è una sola possibilità e gli innovatori sociali li battono sulla spalla e gli dicevano vabbè ragazzi avete cominciato giocando, però adesso che siamo diventati adulti è seri, inevitabile che diventino delle cose così. I bocconiani, con tutto il rispetto, di cui si parlava, non ne ho parlato io, ne parlavano altri stamattina, per cui io penso che in un ambiente come questo, insomma andando avanti la discussione, bisognerebbe discutere quali sono le diverse traiettorie che ci possono essere e partire dall'idea che se è vero che tutta l'innovazione sociale, come tutta l'innovazione, parte da degli inventori, che poi diventano degli innovatori, che poi diventano dei precursori, che poi possono diventare, se non la maggioranza, dei numeri consistenti, tutte quelle che vivono, il modo in cui diventano gruppi consistenti è il nostro problema. Cioè il nostro problema, credo le persone che siamo qui, abbiamo dei valori sociali e anche etici. Quindi il nostro problema è dire, in questa curva, come si fa a fare in modo che le cose vadano avanti, perché se qualcuno le impedisce di andare avanti, anche questo è stato detto, ci sono quei casi in cui quelli che hanno messo in piedi qualche cosa sono talmente affezionati a quello che hanno fatto che praticamente lo mettono in gabbia e strangolano quello che hanno fatto. Quindi fanno in modo che la cosa non si sviluppi perché perderebbe le sue caratteristiche originali. E questo capita molto spesso. Per quelli che invece si sviluppano, cosa può succedere? Può succedere che da una buona idea come utilizzare la bicicletta possiamo avere, ma neanche il bike sharing che ho mostrato nella foto precedente, ma questo qui, che non so qui se c'è, in Italia non è ancora sviluppato tanto, io vado spesso in Cina, questa scena qui è una scena normale. Normale nel senso che qualcosa, anche se la bici è una buona cosa, anche se il fatto che i cinesi incredibilmente hanno ripreso da andare in bicicletta e vanno tanto in bicicletta, almeno nelle città, succede questo nei marciapiedi. Analizzerà qualcuno del perché succede questo. A me hanno detto perché ci sono sei compagnie di bike sharing che sono in competizione tra di loro e quindi tutte portano le loro bici e non si cammina più nelle strade. Qualcuno dice forse una fake news ma non credo che in realtà questa competizione c'è perché le bici sono tracciabili e quindi sono dei raccoglitori di dati e quindi è interessante che uno metta le bici e diventa monopolista perché raccoglie i dati di quella città su come le persone si spostano. Quindi ha diventato adulta questa idea del bike sharing ci porta fuori dal paese dei puffi cioè non sono tutti buoni e bravi possono succedere anche cose preoccupanti. Allora questo io non lo so fino in fondo qual è la motivazione so che nessuno ha fatto i soldi col bike sharing quindi se fanno una competizione come questa ci deve essere qualche altra ragione cioè non è il puro dare in affitto le bici che può far sì che sei compagnie si mettono una contro l'altra sprecando un sacco di tempo di energia. Questo è un caso ancora più noto cioè il carpooling una bella idea di amici che si mettono d'accordo per fare un pezzo di strada insieme in men che non si dica ci troviamo questo signore qua ci troviamo un gruppo monopolista a livello mondiale ci troviamo una piattaforma che è diventata l'emblema della gig economy cioè dei rapporti di lavoro che non vanno quindi cosa voglio dire? che delle bellissime idee all'inizio che non sono morte perché erano buone idee hanno avuto un'evoluzione che oggi vediamo e dobbiamo quando parliamo di innovazione sociale dobbiamo dire che anche questa innovazione sociale solo che non va dove noi speravamo che voglia andare detto ciò ci sono casi che dicono effettivamente che ci sono altre strade che possono essere vite cioè ci sono delle buone idee e l'attivismo iniziale che porta verso condizioni che si stabilizzano nel tempo e secondo me sì e io uso poi non è che ve lo dovete prendere come termine questo concetto che a me sembra molto cruciale della normalità trasformativa cioè se è vero che per far partire le cose ci vogliono degli eroi è anche vero che gli eroi è normale lo saprete tutti dopo un po' si stancano quindi non si può confidare che una cosa duri soltanto perché le persone sono eroiche e i gruppi sono dotati di questa intensità di questa volontà occorre che nel tempo succeda qualche cosa che renda relativamente normale per loro quello che fanno il tema per noi è che questa normalità può o non può essere trasformativa intendo dire Uber è diventato normale anche perché dal punto di vista di un design senza connotazione etica è progettato benissimo per il cliente peccato che questa super attenzione al user center e design non tenga conto di quell'altro poveraccio che invece guida però si è normalizzata noi dovremmo vedere se c'è una normalità che in qualche modo esce da questa logica e la normalità che esce da questa logica è quella che io chiamo normalità trasformativa e che parte da questo presupposto che nei sistemi complessi è possibile che ci siano delle rotture radicali locali che in quel luogo lì diventano relativamente normali e che però sono in alternativa sono in antagonismo con quello che al momento è il sistema dominante cioè se l'evoluzione nel campo del alimentazione porta ad avere un mercato dei contadini che è stabilizzato che funziona bene che ha messo in moto la sua economia locale che è accessibile a tutti eccetera per le persone andarci è normale per i contadini gestire questa cosa è normale però quel sistema lì non è il sistema maggioritario e quindi è un pezzo della costruzione di una possibile diversa società civilizzazione e anche economia il fatto che noi al momento non vediamo tutto il quadro è normale quando ci sono dei sistemi complessi che devono cambiare non c'è nessuno che a priori ha il quadro completo ciascuno può fare solo una cosa lì dove sta agire per creare delle rotture di sistema e le rotture di sistema non sono tanto la guerriglia buttare i sacchi di semi come i guerriglia gardening ma possono essere consolidare il fatto che in quella città o in quel posto diventa normale non comprare l'automobile diventa normale andare al mercato dei contadini diventa normale essere parte di qualche gruppo che fa mutuo acquisto eccetera eccetera in tutti i campi che voi potete immaginare allora questo background guardo lei perché ho detto di farmi fermare quando arrivo a 20 minuti questo background ci parla anche di forme sociali anche su questo lei prima introduceva alcune cose che io penso noi non possiamo non parlare di comunità perché pensiamo credo tutti quelli che sono qui che gli esseri umani siano degli esseri sociali hanno bisogno di stare insieme insomma questa fa parte della nostra umanità quindi questa condizione di solitudine connessa che in cui molti parti del mondo ormai vivono e questa tra l'altro non è il discorso di adesso ma insomma la solitudine non è soltanto un problema psicologico individuale diventa il terreno su cui si creano tutte le paure su cui gli speculatori della paura oggi stanno lavorando quindi non è soltanto dire vabbè c'è molte persone che sono da sole che è un problema per le persone è veramente un drammatico problema sociale questa percezione di solitudine quindi c'è una spinta a rimettersi insieme però siccome le comunità e le forme tradizionali si sono più o meno sciolte tutte quelle che devono venire fuori sono delle nuove forme di comunità che io chiamo comunità leggere dando al termine leggerezza un senso positivo un po' come Calvino nelle lezioni americane cioè la capacità di essere adattabile alle specificità i punti e le situazioni sono comunità intenzionali ci si entra perché si ha voglia sono reversibili se io ne vengo fuori non faccio un peccato mortale come era nelle comunità hippie per esempio sono negoziate ma in questa praticalità c'è potenzialmente la loro forza e secondo me l'innovazione sociale ci sta indicando una possibilità di rivedere come potrebbe essere un tessuto sociale in cui ci sono delle nuove forme sociali basate su questi principi qui ne ho messe alcune particolarmente leggere ma perché funzioni no? e qui come sono messo dimmi tu no cioè ho fatto 20 minuti ok allora quello che volevo dire il pezzo che viene dopo che adesso passerò bellissimamente è che è un po' l'introduzione del mestiere di quelli come me che non sono né un sociologo né un politico né un altro faccio il progettista è che tutte perché succeda queste cose occorre che venga sostenuta occorre che ci sia un ambiente favorevole a far sì che queste cose possano succedere cioè la situazione in cui il mercato dei contadini è normale non è che si è formata così si è formata perché una serie di elementi si sono in qualche modo coordinati tra di loro hanno creato un ecosistema in cui questo tipo di cose possono effettivamente succedere quindi quello che avrei voluto dire qui a partire da un esempio che è noto da tutti che è quello della social street è che uno può parlare della social street e dire guarda che carini fanno tante belle cose come sono bravi come sono attivi però perché succeda qualcuno ha dovuto pensarci il bello della social street è che ha un'infrastruttura leggerissima usa un bar che c'è usa dei pezzi di carta che si mettono sul muro usa un gruppo di facebook cioè le cose più semplici che ci possano essere però qualcuno lo deve fare e quindi non è che quando si dice le cose devono succedere bisogna vedere quali sono le condizioni che fanno sì che le cose possano effettivamente succedere a partire dalle persone cioè perché le persone dovrebbero farlo e c'è una specie di aiuto che può essere dato non ottenere il risultato finale ma creare le condizioni per cui se il discorso è social street uno vede che le cose possono funzionare e social street almeno fino adesso è funzionato benissimo ci sono un sacco di posti in cui si è aperto una social street e in generale le persone che io ho contratto sono molto molto contente poi avrei voluto dirvi vi mostro soltanto che ci sono diversi modi di intervenire prendevo un caso che mi sta molto a cuore perché trovo un caso bellissimo che è quello della housing sociale in particolare promosso dalla fondazione housing sociale in cui se uno ci va la fenomenologia è vede che succedono che c'è un giardino in comune che ci sono i gruppi d'acquisto che ci sono i bagliari e i giochi per i bambini che ci sono i corsi di manutenzione che ci sono le attività ricreative che si fanno attività culturali all'aperto quindi se uno si ferma alla fenomenologia vede cose interessanti che succedono e che formano un senso di vicinato che almeno per quello che ho visto io che ho chiesto io che rende tutti quanti contenti però il fatto che questo funzioni non è che funziona perché funziona totalmente da solo sono state necessarie quello che noi chiamiamo un sistema abilitante che non è fatto soltanto di avere alcuni spazi comuni non è fatto soltanto di avere una piattaforma digitale che coordina è fatto anche di strumenti che aiutano la progettazione è fatto di persone che intervengono ad aiutare e tutto questo adesso corro è cominciato un anno prima che queste case fossero finite per preparare preparare il fatto che le persone si mettano d'accordo su che cosa vogliono fare quindi il risultato di vedere lì che funziona è il risultato di qualche cosa che è cominciato prima e che è continuato quando la casa non è che è finita perché si è dovuto aiutare queste persone a consolidarsi e poi si dovrebbe dire anche nella gestione finale quando tutto è andato e quando gli esperti non sono più lì e le persone si sono auto-organizzate avendo però a disposizione degli strumenti che gli aiutano a farlo perché anche la gestione quotidiana tecnica e sociale di una cosa come questa che è un intero quartiere richiede delle capacità richiede anche una creatività perché la cosa venga effettivamente fatta per finire per finire l'innovazione sociale ci dice un terzo livello di cose che ovviamente meriterebbero molto di più ma non solo questo è il primo questo messaggio le cose per farle succedere occorre partire dal punto di vista delle persone chiedersi perché lo dovrebbero fare e creare delle condizioni che li aiutino a farlo possibilmente con meno fatica ma ci dice anche delle parole chiave che costituiscono nel loro insieme una direzione secondo me la situazione sarà drammatica però non è che non sappiamo dove si almeno io penso che noi sappiamo dove si dovrebbe andare si dovrebbe andare verso una società capace di collaborare e quindi tutto ciò che aiuta a collaborare va bene si dovrebbe andare verso una società che rompe le bolle informative e quindi tutto ciò che mette insieme persone diverse strutturalmente diverse va bene il co-housing e l'abitare collaborativo che dicevo prima fin dall'inizio è pensato per avere persone diverse per rompere l'omogeneità degli inquilini bisogna rivalutare il senso dei beni comuni che vuol dire poi in pratica il ricollegamento volontario tra le persone e gli ambienti fisici in cui vivono con la presa di responsabilità dalle persone stesse nei confronti degli ambienti e secondo me bisogna supportare la partecipazione radicale cioè non semplicemente chiamare di tanto in tanto le persone a prendere decisioni ma aiutandole ad essere attivi partecipativi e collaborativi e questa secondo me sarebbe una società collaborativa in cui le cooperative e le imprese sociali dovrebbero avere secondo me un ruolo principale e con questo vi saluto e grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti